Musica e parole nell'incontro organizzato alla Scuola di Musica Dima diretta da Giorgio Albiani nel dialogo con Vincenza Lorusso, infettivologa con il pallino di fare il dottore sin da piccola. Un viaggio che l'ha portata nei paesi in via di sviluppo e la cui esperienza tuttora in divenire è raccontata nel libro autobiografico Le radici nell'acqua, presentato ad Arezzo. Sogno da bambina, quello di diventare medico e partire laddove c'è maggiore bisogno perché poi il bisogno c'è anche in Italia, però io sognavo l'Africa, sognavo l'India e ho realizzato questo sogno, di cui sono super felice e sono stata anche contetta di condividere con la gente qui questa mia avventura. Un bel momento anche ricco di emozioni forti e scambi con i medici Aretini, Danilo Tacconi, primario di malattie infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo e Marcello Caremani, suo noto predecessore e maestro. La medicina in Italia è diventata più complessa e più completa fortunatamente per certi aspetti però ha perso quello che si faceva anticamente, l'esame obiettivo, una cosa legata più alla mente perché oggi abbiamo, ce lo possiamo anche permettere, le certezze della medicina diagnostica e per immagini però questo ha tolto anche forse un po' di romanticismo alla medicina. A moderare ci ha pensato Stefano Fragai che ha ben saputo intervallare i racconti di Lorusso con i brani musicali dei bravissimi allievi di Lima. Stasera è stato molto importante perché abbiamo avuto un grande segno di speranza anche questo va nei confronti dei giovani che tra l'altro si sono esibiti qui e che hanno unito e hanno sentito la forza della motivazione e quindi il progetto.